adesso vi mostreremo le posizioni del trattamento veloce ogni posizione andrà tenuta 1-2 minuti massimo mi centro e chiedo l'energia una mano alla volta ci spostiamo sulle spalle andiamo a coprire la sommità del capo una mano si sposta sulla fronte e l'altra dietro sulla nuca una mano si sposta sulla gola e l'altra dietro alla base del collo una mano va sul centro del petto e l'altra fra le scapole una mano si sposta sul diaframma e l'altra dietro in corrispondenza una mano va sulla parte bassa dell'addome e l'altra sul sacro le mani si spostano alla base della seduta una mano torna sul sacro e l'altra sulla fronte concludiamo con tre accarezzamenti dell'aura torniamo in centratura e ringraziamo staccando le mani a 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